Mi sei? Sì, sti cartoni. E tu non faccio? Sì. Grazie. 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 No. Vai. 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 Questo è di bello. Ho detto che non è bello. Non sta a perdere. Ha la modalità... Questa è una pezzata. Perché rimane. Se tu lasci... Continuano ad andare a vedere se stiamo andando. ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.